Oggi andiamo a vedere una lezione bellissima che si intitola Barabba o Gesù del 5 aprile 1963. L'argomento di questa sera è Barabba o Gesù, questo è il più grande processo che abbia mai avuto luogo nell'eternità. Avete letto di processi in paesi dove sono coinvolti miliardi di persone? Non significa nulla in confronto a questo processo, questo è il più grande di tutti i processi. Quando leggiamo le scritture troviamo cose come la resurrezione di Lazzaro che è la cosa più fantastica che si possa immaginare. Un uomo che era morto da quattro giorni e sua sorella disse a quest'ora c'è un odore e lui resuscita Lazzaro eppure solo un evangelista lo registra. Solo Giovanni racconta la storia, Matteo, Marco e Luca non menzionano la storia di Lazzaro. Come si può raccontare la storia di un uomo in questo mondo che potrebbe resuscitare qualcuno che era deceduto e riportarlo in vita come noi intendiamo la vita e non raccontarla come parte della sua biografia? Potrei portarvi attraverso le molte storie e mostrarvi che una storia è raccontata da due e a volte da tre e solo da una fonte ma qui in questa storia del processo tutti la citano. Ha un significato enorme la storia del più grande processo che abbia mai avuto luogo nell'eternità. Posso dirvi si sta svolgendo qui stasera e voi siete i testimoni. Voi siete quelli che grideranno per la liberazione dell'uno o dell'altro. Dipende interamente da voi perché questa è la storia. Deve svolgersi in questo modo. Lo sforzo supremo di Dio per rivellarsi al presente è stata la venuta di Gesù. Gesù è venuto a rivellare Dio come l'eterno contemporaneo. Questa è la prova. Uno ci crede o non ci crede ma qui c'è questo sforzo supremo di rivellarsi al tempo presente perché il tempo presente è io sono. Questo è il mio nome per sempre. Non ho altro nome. Passiamo a Giovanni. qui un uomo è sotto processo. Sa chi è perché ha avuto tutte le esperienze per rivellare l'essere che è. Mandato nel mondo per dire chi è e per dire loro chi sono. Perché sono uno. Viene portato in giudizio e Pilato, braccio di Cesare, lo sta processando. E Pilato gli dice che cos'è la verità. Ma egli non risponde. Non risponde. Pilato dice alla fola. Non trovo nessun crimine in lui. Ma voi avete l'usanza che io liberi un uomo per voi nella Pasqua. Volete che io liberi per voi il re dei giudei? Gridarono di nuovo. Non quest'uomo ma Baraba. Ora Baraba era un ladro. Questo è tutto quello che c'è scritto. Non quest'uomo. Liberate Baraba. Bene, ecco il processo. Chi è Baraba? È menzionato solo in una piccola dichiarazione ma nei quattro Vangeli è molto significativo. Per scoprire chi era Baraba scopriamo chi è il ladro e il rapinatore nelle scritture. Torniamo a Giovanni. In verità, in verità vi dico, chi non entra nell'ovile per la porta ma sale per un'altra via. Costui è un ladro e un brigante. Essi non lo compresero. Egli disse loro, io sono la porta delle pecore. Giovanni 10,7. Non c'è un altro modo per entrare in questo ovile. Ora presenta il caso al mondo. Ci credete? Credete mentre siete seduti qui stasera, indipendentemente dalle vostre limitazioni attuali, che l'unica porta per il vostro successo, per il vostro futuro, come lo concepite o desiderate che sia, è solo una? E quella porta è io sono? Non c'è nessun'altra porta in quello e se passi attraverso quell'unica porta le pecore sentiranno la tua voce e riconosceranno la tua voce come il pastore e risponderanno e usciranno. Vorrei essere in salute se non sto bene in questo momento. Vorrei avere un lavoro retribuito se sono disoccupato. Vorrei essere felicemente sposato. Cito tutte le cose che penso che costituirebbero una bella vita nel vostro mondo. Credo davvero che ci sia solo una porta in quello vile dove potrei portare tutte queste cose invisibili nel mio mondo. E queste cose potrebbero rispondere solo alla voce del pastore. E il pastore è, e io sono? E così chiese alla fola ed essi gridarono, liberate Baraba. Non volevano che Gesù fosse liberato. Non ne volevano sapere. Così scelsero il ladro e il ladro governa su di loro fino ad oggi. Questo è il mondo. Io ho scelto il ladro. I miei sensi mi derubano di tutto ciò che potrei essere. Vedo il mio saldo bancario. Conosco il mondo come i miei sensi lo permettono. So cosa impone la ragione nel mio mondo e tuttavia voglio essere diverso da quello che impongono. Eppure non riesco a credere che l'unico modo per entrare in quello vile sia l'unica porta del mondo. e l'unica porta è io sono. Così qui Gesù viene a rivelare Dio al tempo presente e l'uomo lo rifiuta. Parlano di Dio al passato. Egli era o Egli sarà. Ma poche persone al mondo possono credere nella realtà dell'io sono. E questa è la grande prova. E voi siete in prova stasera perché vi viene posta la domanda Credi che il tuo meraviglioso io sono sia l'unico e solo Dio? Oppure credi a causa delle tue attuali posizioni sociali, intellettuali o finanziarie di essere meno di qualcun altro? E permetti alla tua ragione di dettare questo come qualcosa di definitivo? Puoi credere stasera in questo processo e credere veramente che io sono e tu lo nomini e osi crederci? Potrei raccontarvi innumerevoli storie in cui ha funzionato se la gente mi credesse. In questo pubblico stasera c'è un uomo. Solo poche settimane fa è stato licenziato da un lavoro. Gli ho detto che per me non avrebbe fatto alcuna differenza se nel licenziamento gli avessero detto che era per sempre. Io avrei sentito una buona notizia per lui. Una buona notizia. Così ho sentito esattamente quello che mi avrebbe detto se fosse stato vero. E stasera, poco prima che prendessi la piattaforma, mi ha detto che è stato trasferito a un nuovo lavoro con un reddito superiore a quello di prima. Allora io qui faremo un piccolo appunto perché quell'uomo di cui parla praticamente Neville ha manifestato per lui. Cioè questo signore gli ha detto che ha perso il posto di lavoro e che era disoccupato e lui nella conversazione mentale che aveva sentito precedentemente al telefono cambiato il senso delle parole nella sua immaginazione e si è immaginato che invece di dirgli che è stato licenziato, che è stato trasferito e che addirittura ha un reddito migliore. Quanti c'è solo una porta per entrare nell'ovile e quella porta è io sono. Lo sforzo supremo che Dio abbia mai fatto per rivellarsi a noi al presente è avvenuto attraverso Gesù. Quindi Gesù viene affermando Dio come l'eterno contemporaneo da sempre e per sempre. Se domani avete un figlio o un nipote, essi diranno io sono. E' contemporaneo per sempre. Contemporaneo ed eternamente contemporaneo. Era e e sarà sempre io sono. E così per uno che dichiara io sono è semplicemente lo nomina e dorme come se fosse vero. Non c'è potere al mondo che possa affermarlo. Ora questo è un livello di questa fantastica prova. Ci sono innumerevoli livelli in questa prova. Prima di tutto la parola Barabba significa figlio di un padre. Gesù significa salvatore. Perché ogni bambino nato da una donna è figlio di un padre. Bat di solito significa figlia e Bar significa figlio. Sono intercambiabili a secondo del contesto. Così Barabba è ora conosciuto come figlio di un padre. E scelsero il figlio e lo negarono. Non dice il padre ma vi mostrerò come negarono il padre. Perché Gesù disse nello stesso Vangelo di Giovanni quando vedete me vedete il padre. Come potete dire mostraci il padre che ha visto me ha visto il padre. Quindi dichiara io sono il padre. Io sono la via la verità e la vita. Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Filippo gli disse signore mostraci il padre e saremo soddisfatti. Gesù gli disse sono con te da tanto tempo e ancora non mi conosci Filippo. Chi ha visto me ha visto il padre. Ora negano il padre di adempiere una profezia. Ti metteranno fuori dalle sinagoghe. Anzi viene l'ora in cui chiunque ti ucciderà penserà di offrire un servizio a Dio e faranno questo perché non hanno conosciuto il padre né me. Perché c'è una profezia che dice che quando un figlio distrugge il nemico di Israele il Signore libererà il padre. Non hanno scelto il padre per liberarlo. Hanno liberato il figlio. Quello che li sta derubando la mattina a mezzogiorno e la sera lo liberano. E gli uomini di Israele dissero hai visto quest'uomo che è? È salito? Sicuramente è salito per sfidare Israele e l'uomo che lo ucciderà il re lo arricchirà di grandi ricchezze. Li darà sua figlia e renderà libera la casa di suo padre in Israele. Il padre di uno che distrugge il nemico. Il suo nome è io sono. Chiamato IS, la parola IS, la parola Giova, la parola Gesù sono identiche nel significato. Significano semplicemente io sono. Io libererò quell'essere. È il nome e io sono. Ora, se stasera poteste fare quello che decine o centinaia di voi hanno fatto credendo che questo non è un piccolo trucco funziona sempre. Credendoci davvero credereste in Dio. Quando una signora si siede in questo pubblico e ha 60 anni e non ha soldi e osa dormire in una casa che ha bisogno di riparazione. Guarda la casa non riparata e non dipinta e può sentire l'odore della vernice e può vedere il tutto come sarebbe se le cose fossero esattamente come lei vuole che siano. E dorme in quel presupposto. Cosa sta facendo in realtà? Se le chiedessi chi sta anusando qualcosa? Lei direbbe sono io che hanno usato la vernice. Cosa vedi? Vedo una casa riparata. Che altro? Sto vedendo che tutto è stato pagato. Si è addormentata nella supposizione di vedere. Io sta vedendo, sta odorando la vernice. Tutte queste cose è in un mese era tutto riparato e dipinto e pagato con un surplus di 7.000 dollari. Un dono da parte di uno che non aveva mai visto in questo mondo. Ha comunicato con lei solo due o tre volte nel corso di un anno. Ecco, l'ha visto. La sua storia l'ho raccontata nel mio ultimo libro. Potrebbe anche aver dimenticato il nome di Dio. Chi è stato? Potrebbe indicare dall'altra parte del mare una signora inglese a 8.000 miglia di distanza che è morta e ha lasciato con un testamento 7.500 dollari in valuta statunintense che le hanno permesso di fare tutte queste cose. Potrebbe pensare che la causa di tutto ciò sia stata una persona che è morta e io vi dico che la causa di tutto ciò è stato l'unico nome di Dio in questo mondo che ha invocato. È entrata in una villa attraverso l'unica porta del mondo e quella porta è io sono. Si è addormentata nel suo letto ma prima di addormentarsi ha visto e sentito l'odore della vernice e ha visto le zone riparate tutte dipende e dipende e si è sentita dare un assegno a saldo di tutto il lavoro fatto poiché era divertente lo ha fatto per nove o dieci giorni e poi è arrivato a questa meravigliosa bozza dall'Inghilterra e una lettera dalla Lloyds Bank che le raccontava la storia. Lei è entrata nell'ovile e tutti hanno sentito la sua voce e sono usciti le pecore era il denaro tutto nel mondo rispondeva alla sua voce li chiamava fuori chiamava fuori la vernice chiamava fuori il lavoro di riparazione chiamava fuori tutto rispondevano solo alla voce del pastore chi è il pastore io sono il pastore non c'è un altro pastore se pensate che vi nutrirà e riponete la vostra fiducia nel vostro presidente o nel vostro sindaco o il governatore o il vostro padre o vostra madre o un qualche zio che sta per morire e che ora gli state dando il pasto più meraviglioso del mondo perché pensate che vi lascerà nel suo testamento quindi al vostro pastore e tutti questi che pensate siano il pastore state semplicemente cercando in vano non c'è altro pastore e nessun'altra porta nell'eternità se non l'unica porta e quell'unica porta e io sono ecco la più grande prova che abbia mai avuto luogo nell'eternità e voi siete chiamate a gridare colui che volete che sia liberato e il mondo invariabilmente grida ma non tutti c'è sempre quella minoranza che griderà liberate gesù comunque la maggioranza urlerà liberate baraba liberate il ladro e così hanno scelto il ladro e nel corso dei secoli il ladro ha governato su di loro fino a oggi tu e io andremo a letto stasera e i nostri sensi ci deterranno ciò che dobbiamo credere essere vero in questo mondo che meravigliosa descrizione dell'ego di come abbiamo scelto l'ego che ci governi la vita piuttosto che il nostro essere il nostro se superiore e la nostra vera identità che è sempre qui con noi è meraviglioso come ci dice che noi crediamo al ladro ai cinque sensi del corpo che veramente non possono vedere altro che solo una piccolissima minuscola parte e noi crediamo a ciò che vediamo con i nostri occhi e non crediamo a ciò che non si vede con questi con questi organi del corpo andiamo avanti leggi il giornale di questa mattina il 99 per cento compresi gli annunci è stato tutto pagato e se c'è qualcosa che ti piace lo comprerai va tutto bene è stato pagato e tu lo sai ma non sai che anche tutte le notizie sono state pagate questo è stato nascosto sono tutti pagati tutti gli agenti di stampa di tutto il mondo non ce n'è uno che gli occhi dell'opinione pubblica che non mantiene qualche rapporto con la stampa rubriche quotidiane sono stati incarnati con un nome diverso da agenti di stampa ma ancora prendono i tuoi soldi mese dopo mese inseriscono questi piccoli articoli e tu li leggi la mattina mezzogiorno e la sera e credi che sia vero ti dico dimentica tutto il vasto mondo e fate una domanda semplice semplice cosa mi piacerebbe essere guarda il mondo dimentica cuba dimentica la russia dimentica la cina dimentica tutte queste cose che stanno succedendo nel mondo cosa mi piacerebbe essere un essere decente e meraviglioso che contribuisce al bene del mondo essere felicemente sposato sì essere in questo mondo e contribuire al bene del mondo ma contribuire davvero perché quando me ne sarò andato i miei figli dei miei figli se ne saranno andati diranno ha dato un pensiero al mondo che ha nutrito il mondo wow questo passaggio è pazzesco ha dato un pensiero al mondo che ha nutrito il mondo voi lo sapete vero che ogni volta che guardate la tv e le notizie e giudicate ciò che sta succedendo nel mondo come brutale brutto cattivo schifoso tutto quello che ci passa per la mente e abbiamo quel moto di rabbia noi produciamo un'emozione negativa un'emozione di vendetta di odio di qualsiasi esso sia noi stiamo giudicando e in quel momento rilasciamo un'energia che va trasformata con l'energia quell'energia si forma come una nuvola immensa di negatività tutte queste notizie perché credete che ce le mette sotto il naso per farci reagire in modo negativo perché quando noi reagiamo in modo negativo e giudichiamo produciamo ancora più negatività è un circolo vizioso è un ciclo senza fine ora mi direte ma hai visto cosa ha fatto a quello a quello o a quell'altro non vi dico di non essere compassionevoli perché ogni qualvolta che vedete questo dovete mandare un pensiero d'amore un pensiero di comprensione senza giudicare fermarsi lì a non giudicare perché ognuno interpreta un ruolo in questo in questa illusione che noi chiamiamo vita terrestre è molto bella questa lezione vero è ciò che stiamo facendo ogni giorno scegliamo il ladro o scegliamo gesù scegliamo di credere all'ego o scegliamo di ascoltare il nostro se superiore che sempre qui con noi ora noi facciamo sempre una scelta scegliamo di essere positivi o negativi noi scegliamo ogni attimo della nostra vita il problema è che non siamo stati mai consapevoli e molti di noi non sono ancora consapevoli che tutto quello che succede nella nostra vita è una nostra creazione inconsapevole o consapevole più del 99 per cento sono inconsapevoli perché non non ci siamo mai resi conto dei dialoghi interni che facevamo e di come reagiamo alla vita allora io mi fermo qui e domani partiamo da qui con questo splendido racconto ciao a tutti a domani grazie